Decine di ambulanze in coda, come taxi, ad attendere di far salire la vittima della furia della natura. Il terremoto di Amatrice colpisce al cuore e agli occhi come la distruzione di un piccolo gioiello e il tentativo di raccogliere le scaglie preziose con guanti da sci. La logistica è nel caos nella martoriata Amatrice. Un piccolo punto di raccolta tra le scuole diroccate accoglie tutti i gruppi di volontari, i soccorritori, polizia, burocrazia e tanto altro ancora. Pochi i punti di riferimento per chi vuol dare una mano o cercare i suoi cari. Lunghe colonne di grandi mezzi, super tecnologici e potenti, ma che nel centro storico ormai tomba di tanti, non possono entrare, si scava ancora con pale, picconi e tanta disperazione. Fino a sera, fino a notte fonda. Una notte di ghiaccio nei cuori per le tante vittime enermi della natura. Ma non c'è tregua, si continua a scavare, si continua a sperare che ancora qualcuno parli sotto quelle macerie. Le lancette della torre centrale sono ferme sulle 3.36, l'ora in cui si è fermata la storia del borgo di Amatrice, l'ora della distruzione delle vite che in quell'angolo montano al confine d'Abruzzo avevano cercato pace e serenità. L'orco si è risvegliato, hanno pensato in Abruzzo, quando la terra ha tremato violentemente per un lungo minuto. Ma quella era solo la coda del mostro che ha schiacciato i tetti sulle case, come vecchie scatole da buttare.